Ciao ragazzi! Oggi un video diverso dal solito perché sono da solo e per passarmi il tempo farò un gameplay con voi, il mio primo gameplay con voi. Ragazzi a cosa giocherò? Come tutti sapete amo il calcio quindi giocherò a FIFA 19. Ah ragazzi uso questa carta che vi lascio il video e il link in descrizione e poi saluterò alcuni di voi, due di voi Federica Camerin e Marco Dulzo. Ragazzi adesso giochiamo! Ragazzi prima di giocare la partita ovviamente ne ho scelta una tra virgolette c'è ne ho scelta una di Champions che la giocheremo adesso contro il Besiktas però prima vi faccio vedere la formazione. Ragazzi uno del Toro, Belotti, poi vabbè e comunque ragazzi gioco da un po' con questa carriera perché sono nel 2022. Adesso ragazzi giochiamo! Ragazzi ragazzi che comunque noi ci sogniamo di impar leggere così! No io voglio dire solo questo! Comunque giochiamo! Partita! Bayern Monaco ben fica! Falca di mica! E iniziamo a giocare! Baffè! Baffè! Così Baffè! Ragazzi comunque io ho fatto la squadra più veloce del mondo! Mi sa Baffè e Messi! difendiamo! Godesca Marco! Ragazzi è tosta perché io la conosco questa squadra però condizione è già per loro! Allora ragazzi voglio dire una cosa! Io non gioco con Martinez in realtà però Coulibaly si è fatto! E Speller! altrimenti è gioco con Coulibaly! No! Questi sono bravi però eh! E uno ce li si è arrivati! Martinez, Hummels, Alessandro, Godesca, Belotti... Vai! A te! No! Dai! Vai dietro! Vai Godesca! Obame Young! Anche ragazzi Gio! Godesca... che si... Belotti! Ura Zello! Baffè! aspetta troppi di tardo per spaccare la bandierina come si dice e 1 a 0 per noi adesso ragazzi non li dobbiamo subire perché altrimenti non serve a niente questo dai vai tendi o alexandro che si obama young bappe perché si faccio due tiri sul tour veramente andiamo nella storia schiacciavo tutto di fretta no contropiedi no che questi ragazzi comunque cioè io non vedo quaresma l'hanno venduto vabbè sono nel 2000 venduto 3 anni quasi l'hanno venduto a quaresma vai che si prendila che si da godezcai velotti in tutta questa squadra ragazzi non sono uno del torno però dai possesso alexandro velotti aspetta faccio una cosa fuè no nooo volevo fare un scavetto però ai prendi la velotti obame young ragazzi comunque obame young gli ho fatto uno scandalo e gli ho dato un altro all'arsenal però solo per gli affari che faccio cioè che poi ragazzi obame young è più veloce al mondo quasi vai prendilo 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 vai 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 ragazzi comunque a me mi fanno di te quindi poi ti imparano sul palo qui che tappo lì e tra il palo di palo vai chi mi lascia via la messa una volta qua ragazzi ho fatto un gol che oggi non si ripete comunque se la vinciamo 1 a 0 va bene l'importante che la vinciamo vai prendilo prendilo comunque ragazzi ho tenuto un giocatore del buyer praticamente ho noia di un po' stavo noia di io no ragazzi a me mi dà fastidio una cosa quelli portieri escono con la testa cioè quelle qua fino al primo tempo 1 a 0 probabilmente mi fa lì dai quanti portieri non prendi qui e si colgo con la testa comunque nessuno non è in condizioni gravi fortuna e messi vai vai vabbè ah ragazzi voglio dire una cosa che in questi anni cioè che hanno fatto i 4 questo quel quarto anno ne ho giocati due con l'inter che gli ho fatto uno squadrono all'inter e poi dopo sono andato al buyer perché ho iniziato proprio col buyer ho fatto un po' con l'inter poi dopo che si può cambiare la squadra sono andato al buyer alla squadra variante però sono andata tutta io tutta tutta io vai no lo stavo puntando ragazzi poi magari se volete vi faccio un'altra partita magari ve la faccio un pulibali che vi faccio vedere la squadra al completo con pulibali perché si fa 3 spell non puoi giocare Kimmick vai Kimmick comunque ragazzi io gioco delle carriere o questa per quella con l'ajax non puoi vai 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 non lo prendi non lo prendi non lo prendi mi inchino mi inchino Messi 2 a 0 ragazzi oggi tu ti spaccavo la bandierina no ti adunca 2 a 0 adesso basic tas devi aprire ulta difensivo tutti in difesa prendilo toglia vai che si che anche si in queste stagione sul gioco ho fatto questa stagione ho fatto un mercato 3 calciatori ho preso Aubameyang che si è cullipali boh tra cui si è la squadra è a posto che cullipali non voglio vabbè Messi 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 mi sto facendo impazzire mi devo cosa dire no voglio fargli fare un gol a pelotti voglio fargli fare un gol a pelotti si ragazzi poi tipo l'altra partita prima l'ho vinta 5 a 1 poi comunque l'anno scorso ho vinto il campionato avevo vinto il campionato e mi hanno dato 100 milioni a spende invece sui giochi d'Italia te ne erano 50 cose difesa difesa Italia Germania in Germania te ne è dato il doppio che te ne è dato l'Italia se quest'anno faccio molti play mi metto una foto che poi se qualcuno dell'Inter la vedrà si metterà a piacere perchè solo l'Inter ha fatto il piano a molti play dell'Inter non c'è no nooo per fortuna questo qui ragazzi lo dico per sul serio per fortuna per fortuna poi invece ragazzi alla pia di questo campionato ho persa 2 a 1 vabbè c'era proprio la difesa lì non c'era se riesco a fare questo cambio gioco se riesco a fare questo cambio gioco ragazzi perchè come sapete la prima ci gioco da 3 anni 3 anni con questo gioco con questo gioco che veramente mi piace però ah ragazzi mi lancio il sondaggio è il WIPERATE THE BEST o FIFA io FIFA FIFA FOTEVER FIFA FOTEVER va vai Belotti vai Belotti Obama Young no ragazzi all'ultimo ragazzi dai 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 tieni allì messi finita e tionfiamo 2 a 0 ragazzi è questa l'abbiamo vinta ah ragazzi faccio anche vedere la classifica che è questa abbiamo giocato 3 partite ho fatto 4 punti perchè veramente quest'anno è tosta veramente tosta ne ho perso 1 cioè ne ho perso 1 ne ho pareggiato 1 e ne ho vinto 1 ok 1 1 1 comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se volete altri gameplay magari con altri giochi suggeritevi nei commenti e avete tanti pollici in su quindi ragazzi è tutto ciao ciao